Sono rimasta senza zucchero al velo, voglio provare a farlo finandolo. Adesso vediamo cosa salta fuori. Ok, proviamo. L'abbiamo acceso? Sì. Vedai non sarà perfetto come lo zucchero al velo. Qualcosa è venuto, dai. Ho messo 115 g di mascarpone, 50 g di zucchero, quello che appunto ho semolato, che poi ho tritato e ho fatto diventare circa il velo. E adesso metto del limoncello. Facciamo circa due cucchiaini. Vabbè, se no sono troppo di limoncello. Il mio limoncello, eh? Sempre il mio limoncello. Vale. Abbassiamo. Facciamo lavorare. Abbiamo anche un goccio di cioccolato, eh. postulano. Abbiamo anche un po' di solano. Abbiamo anche un po' di solano. lo sciogliamo ecco qua è rimasta una cremina bella morbida dato che avevo avanzato quel poco mascarpone avete già che mi invento qualcosa e allora ho fatto la cremina semplice semplice mettiamo il tutto nella sac à poche fuori e spremiamo ecco qua adesso quel famoso cioccolato che appunto avevo avanzato prima dal avendo lo setacciato mi ha avanzato dei granelli l'ho fuso completiamo l'opera con una bella goccia di cioccolato ecco 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 Proviamo Tati, guarda questo tu non puoi mangiarlo perché? Perché non puoi mangiarlo? Cioccolato, limoncello, mascarpone, quindi ti tocco solo guardare oggi